Non puoi tagliarti quelle unghie nel cazzo! Sono piccoli i meccanici, un quasi finiti, di cosa sono? Proiezioni, Doomkopf! Mach schnell! Ti piace il mio stivale, eh? E come lo hai sempre sognato? La tua presenza ha destato gli spiriti e tutti sono gli sofferi. Come se volessero qualcosa da te. Come tutti. Le voci dei danati e dei condannati possono mettersi in fila dietro voi tre. Il direttore, i custodi, e tutti i risultati che esigono la mia preziosa attenzione. Punti doppi! Ti hai conto all'affrontista? Un errore pagato carico. Ah, i miei occhi così fanno ancora più schifo. Ti muovo questo coglione! Ehi, dammi letta, stai lavorando troppo! Questo coglione è al massimo! Tutto deve morire al massimo! Tutto deve morire al massimo! Tutto deve morire al massimo! Chi è il numero uno? Oh no! L'arma perfetta per uccidere critè di un scaravaggio di vecchi dimensioni! Non spero non fosse un organo vitale! Non sguido! Non sguido! Non sguido! Non sguido! Non sguido! È un organo vitale! Un'armazzo, Tachmonto, geniale. Capù! Non è che cacafo infernale! Ehi, non sono stato io a sbatterti in galera. Ehi, non sono stato io, non sono stato io. Ehi, 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 non sono stato io. Non sono stato io. Non sono stato io. Ehi, 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 non sono stato io. Sì, l'anno dovrà farmela provare. Un tratto, lo spirito è finalmente libero. È la nostra battaglia, l'unica battaglia che può redimerci. Tutto questo per una banale ricarica. Sì. Munizioni al massimo! Sì. Adesso vi porto tutti alla svega. Sì. 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 C'è ancora vita in me! Eri migliore di tutti noi, Ximia. Buon viaggio verso il tuo meritato, Ritone. Hai rotto i coglioni al marine sbagliato. Ah, mi ricordi una lumaca? E io odio le lumache. Basta così, mostra di scostore. Seguite il buon dottore. Non ci apprenderemo la caramella. Vieni con me! Nella morte, ritroverai la tua interezza. Vieni con me! Vieni con me! Vieni con me! Vieni con me! Come posso lavorare senza munizioni? E la testa non c'è più! Un altro numero del mago, Nicolai! Come si mette questo viaggio, sì, mi tornerà utile. Vieni con me! Vieni con me! Vieni con me! Vieni con me! Vieni! Vieni con me! 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 Delizioso! Non sapevo che in prigione servissero bevande così buone. Vieni con me! Vieni con me! Di nuovo! E' il momento di aprire la cassa del destino. Che ti prende, bello? Hai fame? Oh, che catturio! Voglio riparlo! Voglio riparlo! Sobito! Sono piccoli, metallici, und quasi finiti. Chi cosa sono? Projekti in idùmkoppe! Mach schnell! Chi con l'accelente spago? Non le chierate di venta! Morite! Non morti! Questa arma è troppo in goza di munizioni! Oh, un caldo pensiero! Oh, colpi finiti! Ottimo! Anzi, magnifico! Altre munizioni per me! Danke! Che soffresa! Un altro cadavere rianimato! Adesso non fai tanto il duro, eh? Non ci metto niente, ha? Occhi d'arri? Non ci metto niente, ha? Occhi d'arri? Ancora qualche colpo e la mia arma dovrà tacere! Non mi fai pena, mezza sega! No! Come posso lavorare senza munizioni? Vieni, che proiettini! Vi troverò una bella gazzetta putrefatta! No! 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 Poché le befande stimolantesi sanno tutte di veleno! E' Nicolai che si è rinforzato o l'arma che si è alleggerita? Non mi fai pena, mezza sega!